La notizia di giornata è sicuramente la vittoria della Vultur a Lavello, decide una rete di Serritella ma soprattutto una parata di Della Luna che impedisce a Gerardi di realizzare dagli 11 metri così la formazione allenata da Durso e a tre punti dalla Vetta in virtù del pari del Rotonda in casa contro il Policoro aveva aperto Santa Maria, aveva pregiato poi per gli onici Ruiz. Del passo falso delle due prime della classe non ne approfitta il Briense che addirittura viene battuto dal Melfi al suo primo successo esterno e decidono una doppietta di Nardozza, il primo sul rigore è Verrilli. Si conferma al quinto posto in classifica l'Atletico Lauria che si imbona l'inglese con puoli e favori sul latronico, non va oltre l'1-1 interno il Mondescaglioso che perde così l'occasione di tenersi agganciato alla situazione playoff, apre Chito per i padroni di casa, fareggia per il Real Senise e Didi. Torna al successo invece il Castelluccio con un rotondo poker a Tolve, realizzano la vecchia Grello, De Simone e Pioggia, mentre il Ripacandida torna al successo dopo oltre un mese per 2-0 sul Ferrandina, le reti nella ripresa di Maiorino e Griego. Termina invece la scontro salvezza 0-0 Moliterno-Pomarico. Mimmo D'Angelo, allenatore del Ferrandina. Un Ferrandina che fino alla fine non si è arreso mostrando il carattere della squadra. Grazie per queste belle parole, sono d'accordo con te, purtroppo sappiamo che il nostro campionato è questo, giocarcela con queste 5-6 squadre, mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, purtroppo queste partite si decidono sugli episodi, sono stati due episodi negativi che ci hanno condannato ma sono soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Che cosa si aspetta dal proseguo del campionato? Dobbiamo lottare, sappiamo qual è la nostra strada, sappiamo che dobbiamo lottare su questi campi, purtroppo oggi è andata male ma ecco, hanno visto tutti la partita, i miei ragazzi non hanno demeritato, quindi penso di poter dire con un po' di ottimismo che hanno capito che devono lottare su tutti i campi per portare a casa i risultati, poi purtroppo può capitare che non vengono. Carmine Cassese, allenatore del Ripacandida. Seconda vittoria in casa del Ripacandida che riscatta la sconfitta fuori casa. Sì, abbiamo riscattato la partita di domenica che purtroppo ci ha visti soccompere non per dei meriti nostri, la partita l'abbiamo fatta noi e abbiamo dominato senza, penso che nessuno può dire il contrario. Per tutta la partita abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, l'unica azione al trentottesimo del primo tempo, il primo calcio d'angolo che ha avuto il pomarico ci hanno fatto go, abbiamo pareggiato al primo minuto del secondo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni per fare il 2-1, sull'unico contropiede abbiamo subito un rigore abbastanza a dubbio e poi la partita è diventata maschia, è diventata difficile da gestire. Oggi forse per la prima volta abbiamo vinto una partita brutta, sporca, difficile giocare, la posta per noi è altissima, però quello che mi fa piacere è proprio aver vinto una partita dove non ci siamo espressibili, abbiamo giocato molto meglio domenica, forse il campo in sintetico Amatira ci ha aiutato. Quello che veramente mi fa piacere oggi è aver vinto una partita brutta, una partita di carattere, una partita di cuore, quello che forse a questa squadra manca, non che non si mette voglia, non si mette intensità, è proprio che non riusciamo ad essere cattivi, dobbiamo giocare per forza bene. Oggi abbiamo vinto una partita che generalmente non vinciamo. Da quando sto qua per la prima volta siamo in una posizione di classifica diversa da quello che abbiamo avuto l'anno scorso e quello che abbiamo avuto in queste prime giornate. Ci siamo messi in una posizione di centro classifica, consona a quello che la società ha fatto, però adesso quello che ci vuole dobbiamo dare continuità a questi risultati. Le prestazioni, devo dire che da Moliterno in voi ci sono sempre state, il miofi sta dimostrando sul campo il proprio valore, oggi è andato a vincere Abrienza e con la partita noi la potevamo perdere il primo tempo, ma poi l'abbiamo messa bene e alla fine abbiamo avuto anche occasioni per vincerla. Quindi da Moliterno stiamo facendo buone prestazioni, i risultati con le prestazioni buone arrivano e diciamo che adesso siamo pienamente in linea con i nostri obiettivi. Dobbiamo dare continuità a questi risultati, questo adesso deve essere il nostro obiettivo. Nuovo acquisto del Ripa Candida che rinforza l'attacco? Sì, Renato lo conoscevamo perché l'anno scorso è venuto a provare, lo stavamo prendendo, poi abbiamo avuto l'opportunità di Francesco Grieco anche per motivi di vicinanza, Renato è di Gravina, Francesco è di Lavello, ci era più comodo per noi. Adesso avevamo bisogno di rinforzare l'attacco, abbiamo fatto, Renato è un giocatore che a me piace, non è appariscente, non è bello da vedere uno come Francesco Grieco, forte tecnicamente, però si complita perché ci dà proprio quello che ci serve, grinda, forza, si butta negli spazi, va a combattere sempre. Normale che la prima partita era anche difficile perché si è allenato con noi giovedì e venerdì, quindi ha fatto bene bene bene, è uscito per Crambi perché non avendo i 90 minuti è stato fermo fino a oggi, è difficile farli tutti quanti, però è quello che ci serve proprio come temperamento, come modo di giocare. Non vanno oltre gli 1-1 interni Sangataldo e Tito, così si incominciano ad avvicinare anche le altre pretendenti alla corsa alla promozione diretta, infatti all'ultimo gradino del podio si insedia l'Elettra Marconia, questo è il quadro principale della giornata con il Sangataldo che riesce a pereggiore con Donato Carlucci al vantaggio di Villano della Viribus Potenza, così come nello scontro diretto il Tito a 5 minuti dalla fine, la riprende con Giosa al vantaggio sbloccato dall'Orazzina Venosa con Salcino, l'Elettra Marconia piega con un tris di Benedetto Cigliano ai Rai Lavigliano, e San Arcangelese che vince in trasferta per la prima volta con doppietta di Senza e Tritto, rendendo vana così la marcatura dagli 11 metri di Paolucci, atletico Mondalbano che si muone con lo stesso punteggio in casa con Maiellaro, Pierro e Mele, al milionico non basta così il rigore di Acito, Paternicum che batte per 2-1 lo Sporting Lavello, decidono Falvelle e Delia per gli ospiti in gol Rescigno, pareggite acute interna per Atletico Rapone che soltanto al novantesimo riesce a pareggiare con Cogina al vantaggio della Marmol Platano con Cardone, vince lo scondro salvezza il Banzi per 3-1 con la Raff Vejanum, grazie alle reti di Roberto, Palermo e Bojang, rendendo così vana la rete del pari momentaneo dalla Raff Vejanum con Santa Lucia. Grazie a tutti!